C'ha bisogno dei tempi, ma non basta purtroppo il gioco, ci ha bisogno dei tempi, allora questo famoso piano che dicono che hanno pronto e che sottocorranno alle parti deve avere un passaggio in più perché se questa roba che presentano le banche non è funzionale ad un progetto di rilancio e di tenuta dello Stato Unito, le banche li mandano a cagare.